La fotografia di microstock è morta o ha ancora senso cimentarsi in questo mercato nel 2023? Oggi passiamo in rassegna alle agenzie di microstock per le quali ho lavorato o lavoro ancora e andrò a svelarvi quali sono quelle che secondo me possono ancora fruttare qualcosa anche quest'anno. Un doveroso disclaimer, io vi parlo della mia esperienza personale, quindi nel momento in cui vi andrò a dire che la tale agenzia di microstock per me non vale la pena perché non mi ha fruttato niente, io intendo dire che a me non ha fruttato niente. È assolutamente plausibile che siano i miei contenuti che non funzionano su quella piattaforma e altresì assolutamente plausibile che un tipo di contenuto diverso possa avere successo su quella piattaforma dove i miei contenuti invece non ne riscuotono. Per cui prendete con le pinze quello che vi dico e il consiglio che io do sempre a tutti è provateci, provate su tutte le piattaforme perché non è mai detto magari un tipo di contenuto che per voi è facile da realizzare ha successo su una determinata piattaforma piuttosto che su un'altra. Prima di cominciare ti ricordo che puoi sostenere questo canale in modo rapido, efficace e gratuito semplicemente cliccando il bottone iscriviti qui sotto, attiva anche la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ti ricordo anche che questo è un canale ecosostenibile, infatti noi usiamo solamente orologi automatici a carica manuale che quindi non consumano energia e non hanno bisogno delle batterie che poi sono tanto difficili da smaltire. L'unica cosa che non ti dico non è la brochure che poi quando devi andare a fare la revisione ti costa molto di più di tutte le batterie che avevi risparmiato nel corso dell'anno. Andiamo con ordine, partiamo dal mio top seller e mi dispiace tantissimo dovervelo dire ma la piattaforma su cui attualmente vendo di più è senza dubbio Shutterstock. È una cosa che mi secca veramente tanto e vi dico perché. Perché quando un paio d'anni fa Shutterstock decise di tagliare le commissioni a tutti i creator, a tutti i fotografi fu veramente pesante per me così come per tanti altri dover prendere la decisione di rimanere su quella piattaforma perché il primo impulso sarebbe stato quello di dire tu mi tagli i compensi e io ti taglio il materiale, così siamo pari. Se tutti quanti avessero smesso di caricare le proprie immagini su Shutterstock sarebbero stati costretti a rivedere la loro decisione però questo non è possibile per una serie di motivi non ultimo il fatto che sono entrati anche i mercati asiatici quindi abbiamo tanti fotografi che oltre a essere comunque molto bravi hanno la fortuna o sfortuna a seconda di come la vogliamo vedere di vivere in Asia. Ora si dà il caso che di contenuti basati in occidente le piattaforme di microstock siano strassature mentre sono affamate di contenuti asiatici per cui gli asiatici che si accontentano di molto meno per le loro foto sono stracontenti di prendere 10 centesimi mentre per noi è una miseria e quindi quel mercato una volta di più ha spaccato a metà il business delle foto di stock perché adesso le regole sono quelle quindi io sostanzialmente volevo abbandonare la piattaforma non l'ho fatto più che altro per curiosità perché volevo capire quanto ci perdevo esattamente da questo taglio che è stato fatto vi devo dire che oltretutto non ho perso poi così tanto nel senso che il mio portfolio cresce e quindi le mie vendite sono molto eterogenee per cui aumentano e aumentando le vendite non ho perso così tanto però se torno a riflettere sul fatto che dovrei stare prendendo il 66% in più con le regole di prima comunque i 5 minuti mi girano detto questo facciamo una valutazione completa della piattaforma shutterstock facilità di utilizzo gli do un voto abbastanza alto è abbastanza semplice da utilizzare è facile caricare le immagini è facile inserire le parole chiave soprattutto perché c'è un motore di ricerca che permette di selezionare foto dall'argomento simile al nostro e sostanzialmente copiare le parole chiave da fotografie che sono già state caricate questo è molto utile soprattutto all'inizio per capire come funziona il sistema delle parole chiave per capire altri utenti cosa hanno messo e quindi per incanalare il nostro lavoro all'interno del flusso di immagini che già esiste sulla piattaforma molto molto utile anche se vi ricordo che è essenziale sviluppare delle parole chiave a coda lunga che siano nostre uniche in maniera tale da emergere dalla massa anche questo è molto importante abbiamo questa cosa che è un po' seccante che nel momento in cui io scatto 10 foto della stessa cosa se le carico tutte insieme me ne accettano una sola mi rifiutano tutte le altre perché l'argomento è simile quindi tutte le volte bisogna caricarne una aspettare che venga accettata poi caricare le altre per quanto riguarda il metodo di abbonamento diciamo che a me non piace il metodo di abbonamento di Shutterstock ma è un po' quello che ha dettato le regole del mercato in questi ultimi anni quindi è un metodo di abbonamento che consente agli utenti finali di acquistare un tot di immagini pagando un forfait io non sono d'accordo a me non piace lavorare così però mi arrivano dei soldi da lì e quindi diciamo che me lo faccio andare bene quanto paga la piattaforma? molto ma molto ma molto poco attualmente è quella su cui si vende di più certo almeno nel mio caso perché ha saputo attrarre un ampio numero di clienti con le politiche di prezzo che faceva quindi ovviamente dando meno soldi ai fotografi è ovvio che attiri più vendite diciamo che questa cosa un po' si bilancia però è comunque seccante perché stai vendendo tanto e guadagnando pochissimo rimane comunque da dire che su Shutterstock si vende tanto e si vende un po' di tutto ci sono delle piattaforme dove ti comprano solo certi materiali invece su Shutterstock devo dire che più o meno tutto quello che carichi un po' alla volta viene comprato ovviamente deve essere materiale buono perché se è una schifezza le vendite non arrivano ma lì è normale in più su Shutterstock abbiamo anche l'handicap che quando noi carichiamo delle immagini rimangono dentro nel nostro database per due settimane circa al termine delle due settimane se non abbiamo inserito le parole chiave e inviato le immagini per la revisione vengono cancellate mentre su altre piattaforme rimangono lì anche in eterno finché noi non decidiamo di inviarle ultima cosa che segnalo Shutterstock dispone di un'applicazione per smartphone da cui possiamo sia vedere le nostre statistiche i guadagni della giornata i guadagni del mese sia possiamo addirittura andare dentro e caricare delle foto fatte con lo smartphone oppure fatte con una fotocamera e passate con lo smartphone quindi da questo punto di vista è veramente versatile probabilmente per quanto riguarda l'app è la migliore piattaforma di stock di tutte quelle di cui vi parlo oggi secondo in classifica abbiamo Adobe Stock è una piattaforma che a me piace veramente tanto perché secondo me ha saputo mantenere una certa serietà nel corso degli anni prima cosa fra tutte che denota questo aspetto non ha nemmeno un'app quindi mentre su Shutterstock e anche su Getty per la verità quindi anche su iStock esiste un'app contributor tramite la quale si possono addirittura caricare le foto fatte col cellulare questo da un lato è un plus è un plus sicuramente poter avere sul cellulare le statistiche Adobe Stock ha proprio fatto questa scelta di non creare di non sviluppare un'applicazione per smartphone questo secondo me per una serie di motivi il cui primo fra tutti è che vuole mantenere una certa qualità vuole che i suoi clienti sappiano che stiamo parlando di immagini e di prodotti di video, di animazioni, di 3D di qualunque cosa si stia parlando è roba di qualità e quindi non sono materiali che vengono scattati col telefonino ovviamente noi possiamo fare la foto con lo smartphone metterla sul computer e poi caricarla anche su Adobe Stock però è più tortuoso e personalmente io non lo faccio quasi mai perché normalmente quando sono su computer lavoro con le mie foto che vengono dalla mia fotocamera non sto a mettermi le foto del cellulare a meno che non siano veramente venute strafighe ma non succede quasi mai non sono quasi mai così contento di una foto fatta con lo smartphone quindi quando sono su desktop sto caricando le mie foto carico anche su Adobe Stock ma carico prevalentemente cose renderizzate a computer o scattate con una macchina fotografica per quanto riguarda l'interfaccia anche qui è molto molto semplice da utilizzare ti permette di selezionare più immagini insieme e di inserire parole, chiave e descrizioni su più immagini tutte insieme abbiamo questa cosa che è un po' seccante che nel momento in cui io scatto 10 foto della stessa cosa se le carico tutte insieme me ne accettano una sola e mi rifiutano tutte le altre perché l'argomento è simile quindi tutte le volte bisogna caricarne una aspettare che venga accettata poi caricare le altre su Adobe Stock a differenza della piattaforma vista in precedenza le nostre immagini rimangono immagazzinate che io sappia per sempre quindi se io carico una foto finché non la invio rimarrà lì con le maschere vuote fino a quando io non decido di riempirle o fino a quando io non la cancello questa è una cosa che a me piace molto perché io posso andare a caricare delle mie immagini lungo un arco di tempo lungo quindi non sono obbligato a dire faccio uscire tutte le mie immagini subito posso caricarle tutte sulla piattaforma e poi pubblicarle poco a poco per tenere alti i volumi di ricerca sulla mia pagina riguardo ai soldi che mi arrivano da Adobe Stock devo dire che io sono abbastanza soddisfatto fondamentalmente perché Adobe Stock ha meno vendite rispetto a Shutterstock ma ha delle commissioni più alte per cui nel momento in cui un file viene comprato ti arrivano un po' di soldi te ne accorgi non sono 10 centesimi quando vendi una foto su Adobe Stock ti arrivano magari 2 euro per il singolo download che è tanto oggigiorno è tanto non te li dà quasi più nessuno 2 euro ovviamente è più difficile vendere su Adobe Stock la qualità è alta e su Adobe Stock non vendi di tutto perché sono utenti che stanno usando gli applicativi dell'ecosistema Adobe quindi stanno usando magari Photoshop e gli serve magari l'oggetto scontornato quindi vanno a prendersi l'oggetto scontornato non vendi qualunque cosa su Adobe Stock fra l'altro Adobe Stock di recente ha aperto all'invio di PNG senza sfondo quindi va proprio in quella direzione ti danno delle risorse che siano pensate per essere usate in Photoshop quindi già scontornate da mettere dentro o in Illustrator o in un altro programma però sempre dell'ecosistema Adobe all'interno di questo ecosistema io non mi ricordo più com'è che funziona per il cliente finale però credo che si paghi ancora la singola risorsa quindi questa è una cosa che a me di nuovo piace di più io preferisco essere pagato per la singola risorsa piuttosto che un forfait da cui poi prendo pochi spiccioli il sistema di inserimento di descrizioni e parole chiave è abbastanza semplice anche qui ci sono degli aiutini per le parole chiave anche se io vi dico la verità io preferisco utilizzare il meccanismo di Adobe Stock per prendere le parole chiave dopodiché mi copio le parole chiave da Adobe Stock sulle altre piattaforme mi sembra il modo più efficace di farlo quindi rubatemi questo trucco secondo me vi frutterà qualcosa quantomeno in termini di tempo risparmiato procediamo con una menzione d'onore vi parlo di iStock by GetImages iStock è stata la prima piattaforma sulla quale io mi sono iscritto per fare questo tipo di lavoro è una piattaforma che mi ha fruttato tantissimo perché nei primi tre anni che sono stato su iStock ho guadagnato guadagnavo lo stipendio io avevo uno stipendio ogni mese avevo lo stipendio ma neanche basso avevo uno stipendio alto purtroppo poi per colpa soprattutto di Shutterstock hanno rivisto le tariffe hanno fatto gli abbonamenti anche lì e quindi è crollato tutto e improvvisamente il lavoro che mi ero costruito non andava più bene ho dovuto cercarmi dell'altro quindi io sarò sempre grato iStock per quello che mi ha dato perché è grazie a quei tre anni che mi sono comprato il mio corredo e che ho deciso di fare questo nella vita quindi sarò sempre grato quindi menzione d'onore perché attualmente su iStock io non sto guadagnando quasi niente cioè guadagno un centinaio di euro una cosa veramente bassa 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 nonostante io sia dentro da tanto quindi abbia un alto volume di immagini non so ben spiegare questo fatto credo che la piattaforma sia non dico in stato di abbandono però vedo che ci sono tante compere dagli Stati Uniti qualche compra dalla Germania ma basta lo usano solo negli Stati Uniti il resto del mondo credo che si sia orientata altrove per quanto riguarda il sistema di inserimento personalmente lo trovo un po' macchinoso anche se segnalo che c'è un'app da smartphone anche qui che funziona abbastanza bene con cui possiamo sia vedere un po' di statistiche anche se ti dicono troppo poco secondo me non riesci a farti un'idea perché non hai le statistiche belle come ci sono per esempio su Shutterstock delle statistiche un po' più in profondità aiuterebbero in questo caso non ci sono tant'è almeno c'è l'app da cui possiamo caricare ma possiamo caricare solamente le foto creative non possiamo caricare foto editoriali e non possiamo caricare neanche video se ricordo bene il sistema di inserimento delle parole chiave come vi dicevo non mi fa impazzire perché il sistema di Ghetti ha delle parole chiave che sono fisse per cui se io voglio inserire delle parole chiave su un determinato argomento ho fatto una foto di una videocamera e voglio inserire le parole chiave nella descrizione faccio quello che voglio nel titolo faccio quello che voglio nelle parole chiave avrò videocamera e avrò solo quella parola chiave magari perché magari camcorder potrebbe non essere presente magari reflex potrebbe non essere presente DSLR potrebbe non essere presente mirrorless potrebbe non essere presente io ho solo videocamera ovviamente ci sono sia in italiano che in inglese c'è la traduzione quindi da quel punto di vista ci sono pochi problemi le descrizioni e i titoli bisogna farli in inglese questo sempre su tutte quante le piattaforme se no c'è sempre un po' di rischio che non te le accettino o che vengano tradotte male se le facciamo noi in inglese è meglio impariamo anche qualcosa io ho imparato un sacco di parole andando a cercare termini da mettere dentro quindi è anche una bella cosa questa per quanto riguarda le parole chiave Ghetti è molto espigoloso nel senso che ti dice lui che parole chiave devi usare se io scrivo videocamera mi da lui dei suggerimenti però io posso scegliere solo tra i suggerimenti che mi da lui cioè non posso scrivere macchina da presa per esempio se mi viene da scrivere macchina da presa io non posso scriverlo cioè lo scrivo ma mi viene rifiutata la parola chiave quindi è veramente gnocco come sistema di parole chiave e io non sono per niente sicuro che questo sistema funzioni infatti le vendite basse secondo me dipendono da questo oltretutto non ti permette di fare parole chiave a coda lunga quindi metodi di ricerca moderni ciao ciao siamo ancora un po' al medioevo quindi da questo punto di vista secondo me è questo il problema di iStock ed è questo il motivo per cui poi gli utenti vanno altrove parliamo ora di qualcosa di un pochettino più recente Pond5 ne avrete già sentito parlare è una piattaforma video first dichiaratamente quindi è una piattaforma su cui si vendono soprattutto video accettano anche le foto ora io carico sia foto che video un po' su tutte quante le piattaforme quando ho qualcosa di buono lo carico sempre Pond5 non è in testa alla mia lista dei guadagni però ve lo menziono perché ho riscontrato che le commissioni sono buone ci sono delle commissioni basse dipende se sono magari licenze stese se è foto o se è video però quei pochi file che ho venduto sono stati venduti per delle cifre abbastanza alte per cui botte magari di 20 euro al singolo download 20 euro a singolo download io è da quando stavo dentro i stock dagli inizi che non lo vedevo più quindi si parla di un bel gruzzoletto per cui ve lo segnalo perché io ho appena iniziato iniziato da poco a caricare roba su Pond5 se si inizia con l'alena giusta essendo una piattaforma anche abbastanza giovane quindi magari non è ancora congestionata come altre magari c'è da tirar su qualche bel soldino soprattutto se abbiamo la possibilità di caricare dei materiali unici sistema di caricamento è assolutamente easy molto friendly l'unica cosa che segnalo che non mi piace per niente è che non c'è la possibilità di selezionare tanti file insieme in maniera semplice nel senso che tutte le piattaforme di cui ho parlato in precedenza danno la possibilità di selezionare un file tenere premuto shift e selezionare un altro file e quindi selezionare tutti i file di quella porzione invece su Pond5 e purtroppo vedremo che a cascata anche le piattaforme di cui vi parlerò più avanti adottano questo sistema su Pond5 noi dobbiamo selezionare le risorse una a una per mettere dentro le parole chiave invece è una cosa veramente estenuante perché magari abbiamo una pagina con 50 risorse di cui 28 sono del medesimo set e quindi andrebbero con le stesse parole chiave ma le altre 22 invece sono diverse e quindi dobbiamo selezionarci 28 risorse a mano questa è una roba che detesto di Pond5 se qualcuno di Pond5 mi sta guardando cambiate questa roba è una stupidata cambiatela fatemi fare drag and drop cioè ci vuole un attimo questa cosa è veramente insostenibile però ripeto ve lo segnalo perché le commissioni sono più alte che altrove sempre parlando di commissioni più alte che altrove vi consiglio anche la piattaforma Alami è una piattaforma abbastanza vecchiotta sia come mood che come tutto quanto però anche le commissioni sono abbastanza interessanti devo dire che proprio come i stock quindi piattaforme vecchie piattaforme stracariche di roba sono un po' rilento non ci sono tante vendite anzi sono veramente poche di solito si vendono 20 file all'anno su Alami ma neanche 10 file all'anno però se tra quei 10 ce ne sono 2 o 3 da 50 euro e a me è capitato diciamo che lo fai anche volentieri a quel punto ovviamente abbiamo a che fare con una piattaforma un po' vecchia per cui abbiamo un sistema di parole chiave e di inserimento dei dati che è un pochino più macchinosa rispetto ad altre quindi è un po' più difficile ci sono diverse tendine diverse maschere da gestire a me non piace come sistema di inserimento dati proprio non mi piace questa è una cosa importante perché secondo me la migliore per l'inserimento dei dati delle parole chiave purtroppo è Shutterstock quindi quella che paga di meno che però ha il sistema di inserimento migliore quindi tu riesci a caricare più roba su quella piattaforma perché ci metti di meno invece su Alami secondo me continua a convenire perché anche se ci metti di più e però se con una foto guadagni tanto quanto 500 foto su Shutterstock anzi anche di più diciamo che continua a convenirti ok passiamo a parlare delle piattaforme che io ho abbandonato o sono in via di abbandono fondamentalmente che sono 1, 2, 3, Royalty Free ebbene sì signori non si pronuncia 1, 2, 3, RF o meglio lo possiamo dire come vogliamo però 1, 2, 3, Royalty Free ha un senso perché c'è una rima dentro quindi ha un senso detto così 1, 2, 3, RF perde completamente senso e sembra la password del computer della zia vecchia quindi poi ognuno lo chiama come vuole però quella piattaforma lì io ero entrato con tanto entusiasmo perché mi era stata caldeggiata e una volta mi avevano detto che funzionava per quanto posso constatare al momento nessuno dei miei contenuti ha successo su quella piattaforma sono veramente poche le vendite cioè vi parlo di ma che so due vendite al mese con 7000 quasi 8000 risorse diciamo che così poche vendite al mese per un totale di diciamo che io guadagno un euro al mese da quella piattaforma lì quindi è veramente una roba che dici vabbè cioè non vale il tempo che ci metto a inserire le parole chiave vi ripeto magari altre parole chiave hanno risultati differenti per me non funziona nessuno dei miei contenuti funziona su quella piattaforma oltretutto il sistema di inserimento dei dati delle parole chiave della località eccetera eccetera è veramente molto gnocco non mi piace proprio per niente e la modifica che hanno fatto di recente che hanno messo dentro un sistema di riconoscimento automatico delle immagini che ti suggerisce delle parole chiave non aiuta granché perché sì da un lato ti aiuta perché ti butta dentro delle parole chiave a caso quindi tu puoi dire vabbè se mi vanno bene le lascio e amen va bene così però primo possono essere tutte sbagliate perché va molto per cromatismi va molto per affinità quindi se tu metti dentro come è capitato a me per esempio metti dentro una foto di una mandorla una macro di una mandorla bella grossa e quello ti trova delle parole chiave con dentro labrador perché capisce male pensa che sia un labrador quindi ci si fida ma fino a un certo punto ecco inoltre non si possono selezionare più immagini insieme bisogna selezionarne una modificare le parole chiave poi andare a selezionare le altre e dirgli che vuoi copiare i metadati di quella su tutti gli altri insomma più macchinoso di così non potevano farlo con quello che pagano è una delle piattaforme che io sto assolutamente pensando di abbandonare cioè quantomeno di non caricare più roba magari non la chiudo la lascio lì mi arriveranno 10 euro l'anno la lascio lì però non mi faccio più un paiolo tanto per caricare roba ecco le piattaforme che ho completamente abbandonato sono per esempio Dreamstime Dreamstime a me non dispiaceva perché comunque è una piattaforma vecchia quindi me la ricordo che io guardavo le cose andavo a vedere le robe su quella piattaforma lì non ho mai comprato nulla perché ero piccolo ancora però andavo su a vederla le commissioni non sono neanche male nel senso che a singolo download magari ti arrivano 5 euro però io ho l'account lì sopra da 10 anni e in 10 anni non sono neanche arrivato a 50 dollari per cui capite che a un certo momento uno dice ma vale la candela questa piattaforma o no per me la risposta è no una piattaforma troppo vecchia con un sistema di caricamento troppo vecchio si fa una fatica bestia a caricare le immagini è difficile mettere dentro le parole chiave è una piattaforma gnocca risponde anche male dovrebbero rinnovare magari l'hanno rinnovata adesso e quindi sto dicendo una cavolata è un po' che non ci entro neanche però fino a vi dico due anni fa era una piattaforma troppo vecchia cioè era primi anni 2000 come costruzione del sito quindi assolutamente inadeguata a quella che è la navigazione oggi aveva di buono quanto meno che se ricordo bene potevi selezionare più immagini per inserire le parole chiave però ci fermiamo lì perché se non guadagni niente anche se è facile da usare non ti serve 500 pixels ora parliamo un attimo di questa piattaforma che è un po' controversa ci sono diverse persone che mi hanno detto 500 pixels è una schifezza io ho caricato delle robe ti rifiutano tutto e non riesci non riesci mai a vendere niente ok è verissimo ti rifiutano quasi tutto allora facciamo un distinguo c'è la possibilità di caricare le immagini free oppure di caricarle in vendita ora se tu carichi le immagini tanto per ti accettano tutto se carichi le immagini con l'intento di venderle è vero ti rifiutano quasi qualsiasi cosa tu carichi quella piattaforma però va a innestarsi dentro Get Images quindi che cosa succede è vero che non ti accettano quasi un tubo ma quando ti accettano qualcosa quel qualcosa finisce dentro nel motore di ricerca di Get Images di Get Images io non vi ho ancora parlato perché io attualmente non sono dentro Getty io sono dentro i stock by Getty quindi vuol dire io vendo qualcosa su Getty ma non direttamente anche perché Getty vuole l'esclusiva ancora è l'unica che ancora vuole l'esclusiva assolutamente se no non vi fa stare però che cosa succede su Getty che le commissioni sono incredibilmente alte per cui quando vendi qualcosa su 500 pixels ti arrivano dei bei soldi di nuovo stiamo parlando di 50 euro a singolo download anche questa è una cosa che mi è successa io ho caricato poco su 500 pixels perché c'è una licenza da pagare se vuoi avere l'account completo l'account premium quindi se vuoi avere l'account in grado di caricare immagini limitate devi pagarli tu io mi rifiuto di dare soldi a un'agenzia di microstock non glieli do e questo però significa che ho solo un tot di caricamenti al mese se ricordo bene sono cosa sono 30 caricamenti al mese 10 caricamenti a settimana non mi ricordo più sono pochi quindi devi scegliere bene le immagini devi scegliere le più belle e dargli solo quelle però quelle se vengono accettate finiscono dentro ghetti il sistema di caricamento non mi piace nel senso che se gli dai troppe immagini o troppo pesanti crasha di continuo si blocca non ti fa andare avanti magari hai cominciato a inserire qualche metadato si blocca tutto devi rifresciare perdi tutto devi ricominciare da capo quindi sistema pessimo assolutamente da dimenticare però almeno ti dà la possibilità di selezionare le immagini tutte insieme e come detto se te le accettano le commissioni sono buone ne accettano pochissime quindi è anche un po' questa la bilancia della cosa ovviamente se ti accettano tutto ti pagheranno poco se ti accettano pochissime cose probabilmente le commissioni sono più alte quindi secondo me continua anche a valerne un po' la pena faccio ora delle menzioni speciali perché ovviamente esistono anche piattaforme di cui io non so nulla perché non ci ho mai lavorato per cui Envato Pexels Pixabay Unsplash Freepik Stockvolt Stockphotos Stocksnap ve ne sto dicendo a caso perché vedo che ce n'è tantissime che io neanche conosco Peek Wizard insomma ce n'è chi più ne ha più ne metta tutte queste io non le conosco non ci ho mai lavorato non ci ho mai lavorato fondamentalmente perché voglio lavorare con le più grosse voglio avere il mercato più ampio possibile ovviamente andare a ficcarsi dentro anche in tutte quelle mignon significa sì avere più diffusione per le proprie immagini ma significa anche dover fare molto lavoro in più oltretutto alcune di queste hanno molto la politica delle immagini gratuite con la condivisione dell'autore quindi per esempio Unsplash Pixabay soprattutto sono delle piattaforme dove tu puoi mettere delle cose in vendita ma ti viene anche richiesto e ti viene spinto molto di metterle gratis in cambio del riconoscimento dell'attribuzione questa è una cosa che io non amo fare perché ogni volta che io metto una mia foto gratis sostanzialmente sto privando non tanto me stesso di un compenso quella è la mia scelta sto privando un mio collega di un compenso perché magari lui aveva caricato la stessa pagamento verrà scaricata sempre la mia e io con la menzione non ci pago l'affitto e lui ha perso quello che avrebbe potuto guadagnare quindi è una cosa che a me assolutamente non va bene una precisazione c'è un solo caso in cui lo tollero ovvero Adobe Stock Adobe Stock di recente ha introdotto la politica delle immagini gratuite e come funziona questa politica ogni tot tempo agli utenti me compreso viene richiesto di destinare alcune delle mie risorse caricate al mercato delle immagini cedute gratuitamente sì però il cliente finale le avrà gratuitamente la piattaforma a me dà dei soldi la piattaforma mi paga in anticipo un forfait sulle immagini che sto destinando all'utilizzo gratuito allora sì allora sì che ha senso metterle gratis perché io sono già stato pagato e a quel punto è una scommessa io ho scommesso che la risorsa X mi sarebbe stata comprata meno volte della somma che la piattaforma decide di darmi per metterla in licenza gratuita quindi allora a me sta bene in quel caso ho scelto io quali e ovviamente ho scelto delle immagini che pensavo che non sarebbero state vendute tanto perché bisogna anche giocare di strategia non ti do la mia top seller da mettere come risorsa gratuita te ne do una che non è mai stata comprata così me la paghi e io ci ho guadagnato e poi se i clienti se la scaricano a quel punto siamo tutti contenti facciamo un attimo un piccolo recap Shutterstock è sicuramente la piattaforma dove si vende di più ma vi devo anche segnalare che è una delle piattaforme con il più alto tasso di foto rifiutate e soprattutto siccome sono dei bot a fare delle intelligenze artificiali a fare questi controlli nella maggior parte dei casi non c'è un omino che sta lì e le guarda davvero vengono passate a un umano solo dopo un controllo da parte dell'intelligenza artificiale quindi spessissimo ma veramente spessissimo oserei dire ogni singola volta c'è un'intelligenza artificiale che canna alla grande e che ci rifiuta le immagini con delle motivazioni ma così assurde ma così assurde che se le ricarichiamo venti minuti dopo vengono accettate quindi capite che proprio non ha senso ha un sistema di accettazione che fa schifo parlando di Adobe Stock sono molto inflessibili però sono un pochettino più equi perché se un'immagine è giusta te la accettano se un'immagine fa schifo te la scartano però lì sai che c'è un criterio non ti rifiutano una foto con una motivazione che non sta né in cielo né in terra iStock devo dire sono abbastanza bravi accettano molto di più siccome è una piattaforma un po' in difficoltà hanno bisogno di ossigeno quindi accettano quasi tutto ormai non le guardano neanche più una volta erano molto fiscali presemente sbagliata te la rifiutano e amen però accettano molto di più queste due le metto vicine perché si somigliano per quanto riguarda Alami e Pond5 io veramente ragazzi vi giuro io non so che cosa bisogna fare per farsi rifiutare una fotografia su Alami e su Pond5 ti accettano tutto qualsiasi cosa tu metta te la accettano qualsiasi cosa prendono tutto quindi da un lato è un bene dall'altro ti prendono anche delle immagini di cui poi ti penti quindi pensateci bene per quanto riguarda 123 Royalty Free sono equi accettano la maggior parte delle immagini ogni tanto te ne rifiutano qualcuna che però lo sai anche tu che non era bellissima quindi ci può anche stare in generale vi posso dire una cosa tutte le piattaforme di stock hanno interesse ad accettare i vostri materiali tutte le piattaforme di microstock però hanno interesse anche ad avere uno standard qualitativo per cui se vi rifiutano i file con troppa frequenza domandatevi se non c'è qualcosa di sbagliato nei vostri file ovviamente quanto meno di sbagliato per quanto riguarda i criteri della piattaforma e ricordatevi che una foto tecnicamente perfetta può essere meno bella di una foto fatta col cuore ma lì vogliono una foto tecnicamente giusta magari non perfetta ma quanto meno tecnicamente giusta quindi basatevi su questo bene spero con questo video di avervi tolto un po' di dubbi su quali sono le piattaforme su cui puntare anche se ovviamente ve li rimetto subito lì i dubbi perché non potete sapere se il vostro materiale performerà meglio o peggio del mio su quelle stesse piattaforme per cui quello che vi dico io è io vi posso dare questo consiglio scegliete dei temi dei temi che per voi siano di facile realizzazione per esempio avete il più bel border colli che si sia mai visto fate 100 1000 foto al vostro border colli fate un bel caricamento in batch non 1000 per volta fate 20 per volta se no come già detto prima se le caricate tutte insieme alcune piattaforme ve le rifiutano perché è lo stesso soggetto quindi caricate un po' per volta in quel modo dopo un mesetto che caricate foto di quella situazione di quel in questo caso del vostro cane ma insomma di qualunque cosa abbiate scelto dopo un mesetto che avete caricato qualcosa cominciate a vedere se quella cosa funziona avete venduto uno sfracello di foto benissimo continuate a fotografare il vostro border colli evidentemente non è bello solo per voi viceversa non ha funzionato fate qualcos'altro provate con una mela verde provate con la vostra macchina provate con il vostro giardino provate a fotografarvi gli alluci come dico sempre ci sono degli estimatori anche per quello su OnlyFans le pagano queste cose quindi perché no l'importante è che dovete trovare un qualcosa che funzioni su quella piattaforma qualcosa che innanzitutto vi venga accettato perché magari scegliete un tema che su alcune piattaforme viene rifiutato di default e quindi questo è il primo step e poi qualcosa che venda una volta che avete trovato qualcosa che vende cercate qualcos'altro e quindi man mano andate a cercare delle nicchie con degli argomenti che vengono venduti sulla specifica piattaforma e magari scoprirete che sulla piattaforma A vendete il primo shooting che avete fatto e sulla piattaforma B vendete soltanto il secondo perché funziona anche così bene amici io spero di avervi dato qualche informazione utile per proseguire in questa emozionante avventura nel mondo del microstock e vi lascio con questo monito vivremo ancora tantissime sfide emozionanti proprio qui sul mio canale per cui questo è il momento di cliccare il bottone iscriviti qui sotto attivando anche la campanella e lasciate un like a questo video e in questo modo aiutate questo canale a rimanere sempre aperto per darvi nuove ed entusiasmanti emozioni signori ho parlato anche troppo e vi do appuntamento al prossimo video iscriviti al canale iscriviti al canale grazie a tutti grazie a tutti